Sono Martone Maurizio, titolare dell'azienda Il Diamante e insieme a mia moglie Bardona Roberta, che da 1994 noi ci teniamo mano per mano alla crescita di questa azienda, nasciamo come un'azienda di Contoterzisti e negli anni era il nostro obiettivo e desiderio di diventare un brand ed eccoci qua, stiamo cercando di diventarlo con delle cose molto innovative. Abbiamo due brevetti presenti con noi che ci stanno seguendo adesso da un paio di anni. La novità di quest'anno assoluta è la linea Iris, che è la linea di gioielli con diamanti colorati, perciò diamanti cognac, blu, verdi, azzurri, sempre incastonati con il sistema 4D che poi è il nostro brevetto. Cos'è l'incastonatura 4D? È un sistema di incastonatura dove un diamante porta lucentezza e brillantezza all'altro diamante e via discorrendo qualunque fascio di luce che vi si ponga sopra diventa un'esplosione di luce. Le idee che tiriamo fuori nascono solo ed esclusivamente alla volontà delle donne, andare alla ricerca di cosa vorrebbero, cosa gli piacerebbe avere di diverso. Allora abbiamo cercato di unire quello che è il classico che comunque poi la donna vuole sempre, dandogli un tocco di originalità e di diversità, perché comunque il nostro classico tipo il nostro tennis, il nostro tennis 4D incastonato col sistema appunto di questi diamanti che si sfiorano all'interno con apice, con apice, porta questa lucentezza e dà un tocco di diverso a quello che è un gioiello classico. Quest'anno abbiamo anche il piacere di avere con noi il nostro testimonial che è Rossella Brescia, farà la sfilata anche qua in fiera, è stata anche lì una cosa molto carina, perché abbiamo scelto un testimonial che si presta veramente a 360 gradi ai nostri gioielli.